Per la seconda volta degli ignoti hanno danneggiato l'auto del sindaco di Bareggio Linda Colombo domenica mattina al primo cittadino ha trovato due portiere graffiate con una chiave o un oggetto appuntito farò denuncia ai carabinieri ha dichiarato il sindaco. Purtroppo mi viene difficile pensare che non sia un atto mirato nei miei confronti visto che già l'anno scorso mi ero trovata l'auto graffiata e imbrattata con della vernice rossa come dissi già in quell'occasione non mi fermo certo di fronte a questi stupidi gesti realizzati da idioti senza argomenti anzi rinnovo l'invito a chi ha qualcosa da dirmi a contattarmi attraverso i canali istituzionali invece di fare atti vandalici che si qualificano da sé non vogliamo pensare male ma ci sembra una strana coincidenza che il fatto si sia verificato subito dopo l'approvazione del PGT ha aggiunto Giuseppe Sisti capogruppo della Lega a nome di tutto il gruppo consigliare bareggese PGT su cui per sei mesi una parte dell'opposizione ha cercato di fomentare le folle raccontando falsità e accusando il sindaco dei peggiori mali possibili in ogni caso noi non ci fermiamo di certo davanti a intimidazioni di questo tipo anzi queste ci spingono a lavorare con ancora più determinazione per continuare a raggiungere quei risultati che i cittadini di bareggio aspettano da decenni e che evidentemente a qualcuno dà fastidio che vengano raggiunti